hard Berth Revisore K irresponsible Buon suor a ciotte! Buon suor a ciotte! E vi invitiamo in un altro spettacolo. Sicil tokam素a di un alriveorrho aplanando un po' la presentatrice. E molto interessante Hanno f individually rhinocciolo e penso che vi rendere un filo come parto da Bionva avrebbe. Wow... esito io ho la mia bella madame ma io ho la chai di Yule Rubens io ho la chai di monsieur c'è un tren di presenti le padre di Puzzaide le Puzzaide si perde ma il corpo c'è te ha uè uè monsieur il bai fangotto ma io ho la chai di baba ma c'è fiave che c'è la canna di pizza c'è il pantalon c'è fiave c'è fiave c'è fiave io e io e ti scritto in questo caso e galia ad ogni batteria dici la città e la macchina non è sempre che feina in cma e io vede perché va va il vant il vede la Elisa si va vede il vede si pietaliti vedo, vedo eeeh 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 signore non è la gamba sinistra fa male perchè è vecchia eeeh Elisa mi spimare alliamo Signor dottore, la gamba sinistra e la gamba destra hanno lo stesso agio, ma la gamba destra mica mi fa male. Elisa, chieda l'ho finito. C'è ma anche il piazza. Non mi sache la mia tutta della piazza e si siamo signati alistemo di n gastricomentaggio. E io vedo il pallone, certo la bisogna resta hair che mi insegnarti. E io vedo il pallone di scatene. C'è stato questo pallone che insegnanti, è delle puoi sportive. Sono una pancia di armato. Se passa la baguazione della pastiglia per la vita... Telefono al dottore. Quanto? Quanto, signor dottore? Sono io? Io qui? Sono io, non? Non mi conosce? Scusi, signor dottore. Ho tanto mal di pancia. Non so se mi hai fatto partire... Hai sbagliato colore perché... Il dottore la domanda... Scusi, ma... Scusi, ma lei... Quante pastiglie prende al giorno? Mi rispondi lei. Al giorno? Io prendo una pastiglia al ojo! Ma... E io mi dottore... Come una pastiglia al ojo? E io dottore... Si, si è scritto per uso orale! Ma... E se li è scritto per uso orale... Non pregnava i donna la... Ma... Elisa... Monsier, se volete... Ma... 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 Leo... Ma... Ma... Fox6... шее NOW... Ma... 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 E da raining... Stia Zaidonò, Stia Zaidonò, adotta. Stia Zaidon. Allora, andiamo alla presentazione, andiamo a presentare la pizze, e io metto il nostro avvio. Ma dove, Damien? Juttelambe? Eh, sì, Juttelambe. S'entriamo a presti, s'entriamo a presti, protò. Ma, si patti on fa, ceci della Nicoletti, uno quattro kappa de e Rolando. Ma fico tu? Uè, fico tu, Giaccia. Fico tu. Eh, tu stai all'inizio con te, tu vieni qui con te. Eh, non hai solo tempo. Eh, ma devo dire che vado a morire? Eh. C'entriamo, papà. Tu fai? Eh. Eh. Eh, che, mi sembra via il tempo. Eh. 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 Eh eh. Eh. Eh, eh eh. Eh, Eh, c'è un gigante a consulire Giusefine di sedia, ma d'abord l'ha pas de tempo, io. Ma... E te, io ti va a sentire a biglietta e fai? Ma vuoi, noi partiamo a fare giga di shopping. Noi franfata. Shopping. Torn, a fare shopping. Me le dan via che non n'è che vuole la mazzettina per botte. Ma, qual'è? Che n'è mamma che mi c'è la via, puoi parlare più lungo da Pellona. Ma il papà è tutto... Che sa, davanti avvi papà, coppa me lì e paè, eh? Ma Agna ne portò l'ossi in due. E davanti con l'imiccio mi dice che gli è sempre solette. Invece Agna si lì, l'è tutto contente, l'arcappù la compagnie, e... Ma non si è un coppa sennà, e mi racconta se anche la fila della sala sennà, e gli amici di lui, e l'empi fa 4 pa. Pua, l'è tutto contente, sa? Eh, quello caro a te che è la mamma di me. Uh, l'avevo berta. Ma, no, ma, ascoltami. Vado un forno, e poi prende la mamma e porta l'assinà o due. E poi vedo come va te becca, se trova frambiè. Ma Agna, devo voi che ti, perché se non perdono le trempe turn, eh? Novin, au revoir. Buon shopping, Adam, eh? Eh, merci. Eh, eh. Ma mia ragione, Luise. Se ne dure, se resta frambiè. Eh, ecco, t'anabanga. Proposare alla mamma di questa situazione. Ma che lei è contente. E lei sa me, eh, e poi resta par la solette. Te dì, Damien. Pua, resta io già mamma. Se non si mora freddo. Ma, uè, tu hai ragione. Lei pruò, tante miei parrain a perdere. Bon entraînement, e gagne a lecce d'où, eh? Rolando? Ma, no. Tò di suite, ma fourmi gran combina. Salud. Sì, te lo compagnon di Sì. Sì, te lo compagnon di Sì. Ma fai che nasce, ma tu cari, io parmi tanto. Sì, te lo chiedi insieme. Sì, sì, ti rolli anche. Sì, te lo chiedi anche. Sì, te lo chiedi anche. Ma, no, sì, te lo chiedi anche. Ma, sì, te lo chiedi anche. Tò è grande. Oh, buongiorno, Giusefine. Ermastrate, come va? Cosa. Ah, bene è. Tè. Ma che freddo, fai sempre c'è da dentro, ma t'ai pas buono a metter la fornita, basta, c'è qui un bouton. Ma non, merci, c'è qui la fornita a pellette, guardate l'ho mai rosato, ma l'ho mai fanno pas. Qui invece, tutte le bourbouine che mi sorto un po' la titta, che non avevo il bouton, ma si fornita. Mamma, le palo fornita, ma sono le successe boudon che te baglionette. Ma non, 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 ma si per il pure che non fa un beli, le dè, voi siete creati per tutto le cinque vorghiio. Il beli ce, beli ce, le zonio, ma le dè, tutte le bourbouine crue, non, non si. Mamma, l'ho pelette, tenite da tutto un cu. Le mai, di bucun debout, die cupro, fin, 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 quando vengono un po' in plia va più facile allo vendre e allo berlì. No, a me l'andome, c'è un tot di quale rosatiglie, c'è un procedimento, va in fondo l'italia e non le mandorciano, ma va e vola fai che le pisano più marrone, no? Le berlino lo buono e non mandorci lo grammo. Ma se io franque la cosa che sai, io ti senti questo bagno, eh? Beh, io ti senti il bagno, eh? Sei proprio sorda, non? La televisione è aperta, sono così che mi diano questo bagno. Ma, eh, Giusefina, sei da qua. Chiamiamo, mamma. Buongiorno, tu vai? Tu hai l'opera, ma anche io non ho il mio modo. Ma io ho il mio modo. Ah, tu vai il mio modo? Non. Adonno, tu pronosti una bezzetta di specialista? Ma, prezzi, ma non è un specialista. Vuoi le porti, ma vuole un specialista, poi va all'opetale. Ma, non ho il mio modo che ti porti a l'opetale. Non ho il mio modo che ti porti da un medicino specialista per l'iove. Ma, restate tranquillo. lo vedo che mi, il problema c'è il metto, non ho il problema che vorrà passi. Ceci è quello che mi ha detto, il mio mio figlio, mio figlio, mi ha detto, che a forse di metto il nostro pezzi, Non c'era una macchina, non c'era un pardi di calaiova e non c'era un film copino su di problema la teta. Ma tutta, sa rio pimpinko alai di calhue. Cami, ma mamma, l'automno, non c'est pas me. Ma senti conto, non c'est pas me, non c'est pas me, non c'est pas me. Agna, vos atres, pleines de medecins, pleines de zonfirmilles, en pastiglia verde, en pastiglia rose, en pastiglia bleuva, e vai toujours mou. E le zoupetale pleine malado. Adon, na e do, medecine, do. Lo calion di marmotte, per le bronzite, e la zoe vu per la digestion. E le zoupetale l'e anchoïdo, papi come Agna. Uè, e que l'arroi un fran palo petale. Ma senti che te n'en sa te, che ti incogni a nai sova. Cami, ma mamma, Agna, n'a de nuvo, medecine, que l'an te ju de nuvo bagge. Eite de. Anna, tra casate pa, torna se vera mieux. Eite, eite. L'arroi va les attornè a poste. Ah, tu me tornes vera, Anna. Uè, tu ve' ausente a qui, ah. Pa, me l'anjou la bassa. Uè. Ah, fio finge chica de Sausson. Lé, San Pedro, lo disco, dimmo du so. Lé, San Pedro. Uè, uè. Mamma. Uè. Uè. Tassila l'adheria. Non? Si je l'ai capito. Uè. Tu e non. Tu apresenta l'o papa de Lis. Tu e non. L'ai morta? Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Pas morta, ma bon. La dosi l'abiti. Si. Peçala zenta mais un de retraite sin due. Uè. Ah, bo, ah, bo, me. Si papi t'en d'accord. Pi bon. Maga lui. La dica vieux bon, eh. Pu bon se fete. E pu s'arici. Pa te de. Papa de, eh. Ma wito kuski. Kuski? Ma na. Lui l'a barramenta pi viute me don. Ma de. Ma de. Ma de. Oué lo sai mamma, dè te ti affle, dè te porte bient tesan. Ma t'accotè tesan. De le sento chiotmel tesan. Ah, bo. Viu tesans, por et dia vai? Oitantacinchi, oitantacii. Ah, t'ede! Bel kuski de me don. ma lui dimostra veramente più che mette che della finagra ma via, la pegna via perché dimostra più più? Ma c'è cosa posto? Ma tutta, ma lui papà è ragionale, non? Deve dire così lì per la mia zona di due? Non, non è un guardo il nostro viello e le mani non vogliono dire noi Uè, ma voi avete un'altra via avete un po' di lavoro le mani, il navale, l'uomo che è scatto, eh? No, le nostre via avete sempre in mezzo, tranquilli non possiamo venire via noi davanti al tempo ma sei che te l'ai fatto Giusefine che non sei sempre a lavorare quando hai un sogno e un altro discorso Ah già, quando ti conviene? non mi faccio? Ah, come, ma mamma ti ha sempre da me, che le baglie davanti al zezì e fa la puoi e non penso, ma sei già lì comunque un bè ma un fornì c'è questa misura di ritorno E si due resta un fran bien resta un fran bian lo sole lo becco, bello giù la carta E qui ti sa? L'ampallo fornito a pellette. E vuoi senti ce risaldo? Eh, vi salva che ti passano dei soli pianelle. Mungi me! Niente caposso! Ma vuoi la circolazione di Sant'Uni? Ah, vuoi lo risaldo di me passa per terra. Ma ti sa? Il problema è che mi baglierebbe sempre. Non, eh? Mardé! E apri, vuoi senti ce che ti permette? Tu vorrei dire che mi buttate già come segli? Puta, mamma! Prendi un maicette! Non, maicette, non! Fia un d'os, non! Ma? Tu vai, tu vai come letto. Ma guarda più! Tu ti trovi bene tutti i tuoi figli e amici. Ma figliate è semmo segli! Ma dè, Giusefine? Ma qui te cae dittre? Si metti come anduin, che don? Il maicette è semmo segli su di me e si mette come anduin. Ma dè! Ma dè! Ma dè! Capitano cosa ha avuto quasi di portare il papà? E semmo devo fare la vita, mamma. Si, per me. Semmo devo fare. Ah! Te l'hai perferrato che passi la porta! Ah! Te l'hai perferrato che passi la porta! Semmo segli al maicette e comandami! e semmo metti nella titta apposta, mi restare insieme! Tu ti rendi tutta la soletta? Ah! Lo credo bene! Semmo buona! Tutte per tutte! Tutte per tutte! Giusefine! Ma mamma, non crie a me papi eh! Ma per me fu! Stai fatta guai a te sto me crie! Ma fu! Guai a te! Vatten! Fu! Ma è il papi per le sindù! Che all'insensi le sindù! Ma è! Ma è inutile! Oh! Mangemè che fretta da tutto! Oh! Vuoi un po' di verità per me la viva? Ma come sarebbe questo? Sta conto! E questo qui fa una tabelletta! Non posso neanche a me fai sautere! Ma è! Ma è come figlio! Come figlio! Anni a me la viva! Ma politica! Ma è di un sacco nel flore di più! Ma è! Eh! Se non ti fai? Io torno a telefonare a Giusefine, ma l'altra zona è sulla Ia di Micho! Oh! D'anni è proprio più di lui! Io le ma feglie! Ma è sempre la comandata! Il telefono! Sare grunze! Ma grunze! Nien che non è presi! Allora! Zero! Un! Sui! Cinque! Buongiorno! Non rispondi! Non rispondi! Puoi! Allora! Tu ne rispondi! Non rispondi! No rispondi! Ne rispondi! Non rispondi! No rispondi! Pronto! Oh! Buongiorno! Che drolo! E che non sarebbe il problema? Ma dè, n'è l'eve freddo e n'è pa' mi diventata per me lavare, come fio? Mamma, ma ti allai paghi la tarizze. Ma dè, e senti l'eve questa tarizze? Tassa, Agna, Reglia, Eve, Tzada. Ma dè, non mi senti l'eve, tu e un po' in te dè. E che l'eve tutti un po' in te dè? Uè, nuova ministrazione, sala magica di lì. Ma dè, ne prendiamo tutti le battagno di nuovo impo? Ma dè, e come fio mia? Mamma, a reni la teta che ti buona da soletta? Ma Agna, ne pa' mi lo tende, io all'i alambia vidamiè. Oh, dè, e appi te dio piccogna tra baga, don? Senti ancora. Susefine, che ti prendi il suo della mia pension? Te devi all'eve freddo e paghi le zempo, papi me. Ta dè, che ti rinzai da soletta, te fii to da soletta. E come fio li paghi le zempo, che l'eve tutti alla corriera? N'è pa' mi un problema, m'interesse pa. Oh, dè, che saventa, ciao. Ciao, ciao. Ma dè. Poi li ha l'ambio da mia? Otten pa' li ha l'ambio da mia? Ma vincella, per verra il mio problema? L'ampame lo tendo. Ah, per me portare il papi per lui sì, per si metto da due. Alla, lo tendo, cos'è? Ma, tutto. Voi il papi che fisse una canina che mi dì, io. Voi sta contare la maizone da due. Voi il papi che sono lì, che l'ambito mi ha lasciato. Ah, perché? Ma tutto, come fio sai? Ah, fio par conto, eh? Telefoni il sento, ecco. Eh, tutto. È così, capito, matto. Lo sento, che ho trovato il bel fondo della Val d'Osta. L'andone che ho trovato l'unità. S'arretizzare su. Beh, io ho fatto un po' di pensiero perché sarebbe grande con lui. Ma tutto, anche se lei penso. Poi ho telefonato a Flavio. Lui è l'assessore della cimea, che è nascita, lo fio vino, e ha filo un terzo. Lui c'è che mi dice qualcosa. Ah, le frambuidi. Ah, il telefono. Ah, perché? Sono mignotte. Ma è tranquillo, perché sono fine, eh? Ehi, il telefono suono. Buongiorno Ines, come restate? Oh, Flavio, buongiorno. Come l'è, tutto a modo? Oui, sì, tutto bene. Ah, volevo te demandi, ti ho fatto un colo, ciao? Oui, sì. Oh, sono molto contenta. E tu hai riuscito un po' di questo amore a me vendere? Oui, sì, ho un po' di consiglia. Precassate qua. Oh, Detti, è bene gentile. Tu puoi riuscito a portare il tempo in mezzo? Oui, sì, tranquillo. Passo la mia vita. Ecco, permetta presto un vero di rosso di caffè, va? Va bene. Ciao, eh. Grazie. A presto. Ah, Agna, a raggi... Ma, eh, l'ho, 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 l'ho. Si, non. A Sabina, è stato un po' di questi, perché i Sì, si. Vieni a tutti, oh, io sono giavinato, è bello che ci fanno. Ciao. Ciao, ciao. Buongiorno, va a prendere un po' di tassati. Grazie. Ma io sono giavinato. Vediamo, come sei? Tutto bene? Oh, è davvero buono. Senti la viglia. E te? Posso anche me? Come lei? Eh, uè, vieni. Poi, vieni, vieni. Poi, vieni. Ma lei, ti bevi un velo di rozzo o ti bevi un caffè? Ah, sei un buon rozzo, un velo bello è un velo di rozzo. Ah, sei bello e contento. Poi bevi come io. Ah, so, uè. Mi porto te sceglie lo bucundi t'amor che ti ha dimandum. Ah, bien, merci, Flavien. Ma ti fai un resto? Penso bene che te ti fiengo sempre lo tassau. Eh, eh, Agna si cosenta. Ah, ti cosenta? Eh, uè. Eh, donc, come l'attestà, l'administrazione? L'attestà facile l'administrazione o bien come? Eh, uè, come l'attestà, le pas facile. Ah. perché non ho messo di soldi. Non ho messo di soldi. Eh, sì, Agna. Senti, Agna. Senti. Uè, in dottè, l'attestà facile perché non ho messo di soldi. Oh, ma... E, Agna, tu sappi, fai del travaglio, di manutenso. E, Agna, eh, si par ben come fare io. Eh, come fiad? Io li pregno ci si sono? Eh, woèè adessoirk NOP in fondo. Ah, da 동'le manda alle ipotes, le p 감�i. Allora was. Ho, двunga ma la kemed in lамиovei e la piz semi. Eh, woèè? Ma Beltologo ma? E a propos di un po' Voi l'offrazione di vendere una bagla? Dime. Ma le tivagge vede un po' di Silvia Sada? Ah non, per il momento è la sola un po' che non ha. Ah, questo mi solleva il cuore di ben concreto perché questa bagla c'è lìa me plia troppo perché l'ai in la faille di me freglie. Non c'è troppo? Oui. L'ai in la faille di me freglie le mie mignotte, le mie mignotte. Ma dè, volentieri non mi baticcipes a una masone di due? A vu la schizia dell'impur di Silvia Sada? Ma dè, sei franco content che ti ha da me sere. Aite, monstre. Aite, le belle chica tarte. Devo lui un veu, la feccato come su, adoro. Ma dè, volentieri di bucon di Samo? Ma non, bucon di Samo, tracassate pas. Ah, merci, Flavien, adoro ti accompagno. Oui, adoro, au revoir. Au revoir. Merci, don, sempre un gamba. Merci. E buttare pas tant di zempo, eh? Non, non, tranquilla. Ah, vedi le monstre. Voi, baliomelle un po' di Silvia Sada. Tot desuze. Ma agna, le frigo p'e paume. C'unti, l'ampalotène de vincelia, a me verra qu'il y a de probleme. Ma p'e menzi, a re-bompe, pao. Tu et ta re-bompe. Agna, fioniatra telefono. Pronto. Oh, bonjour, Josefine. Bonjour, mamma. Mamma, Inès. De sete à fata. Oh, non, non, tracassate pas. N'ai pas fata de rien. Ma, voulo ormai te demandi se taille l'hôtel de vincelie la polenta et sa mou. Ah, per polenta et sa mou, tu en asempre l'hôtel. Ah, io si. E appris, di qui tiensse a de venir? Uè, va bien, l'ai telefono, mais fion, bah, demain, uè. Uè, uè, demanda e vio a vai l'hôtel. Ah, quand uè. Fion demain, uè. Uè, 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 quand vai l'hôtel, vos hâte, malheureux. Adon, sempre, notre elle, nous va, uè. Ah, uè, va bien, adon, à demain. Va bien, v'atteigno. Ah, vai vi. Pou menzi, la polenta et sa mou, je m'en prou de tout l'est. Ah, ah. Ah, ah, ah. Na mama, tu sempre b'alli menzia, jimainu. Maji menu. B'alli un pa menzia, na mama. Ah. Ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Buongiorno 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 Papa grande me dice sempre che lo progresso, porto lo regretto e mamma grande me dice che il tempo è solo, il tempo è solo, mio amico figlio, sa viendra, sa viendra, sa viendra, come cosa? sa viendra, sa viendra, sa viendra. Si risolve la chiura per la bande, posso presenti un piso. Adon, le frode e i zo de wei sono sempre più nombrose e sempre più complicate, soprattutto i dati di un'outreview e adonavo la frode. Grazie. 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 non vale bene questa piensa c'è un f*** Ehi, in questo mondo di ladri C'è ancora un gruppo di amici Oh, ma è impossibile Ti fai passi tutti i tenni Ma sempre Per fare una vasetta Mange, no Ci fai passi No, no, siamo a posto e poi Sì, siamo a posto e poi Ma ogni tempo per resta bene Sì, sì, sì Resta bene, bo La non è tanto, eh La lezione azo, ma le hanno condotto a chi Sceglie, sceglie I sempre sceglie Ma bo Le hanno condotto di esso Se ci chiede di erro Ma voi, se a lui Alle fai fare la vasetta Di modo di sceglie Per le battere la cucchiaiglia Ed è che gli hanno lì Ma di sceglie Ti fai passi di mando uno Se la chiede di fare la vasetta Per la prostata Ma bensì A novantà E invece L'hai pancofila Ed è un bo Ma più Se avessi uno Non è detto Boh Vite senza sceglie A fine le fai Con questa vasetta Ma dei Mi sceglie Mi fai la fai Mange Te dio Pazio Sarvato Ciglie E vi Il suo uomo Fuva di sceglie Ma Ecoute Sai pa come Mi hai fili Sa man da la prostata No Sai pa come Se fia La dame De Menni fila Premi La seconda Prighiera De bagli paesi E n'è Né 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 Mi hai fili E poi La letta Dele Tipo Siblo Il suo Dove Vance La luna E poi Vedra Se tutta Poce Da Un Play Lo Dei Mange Te dio Pa Ve C'è Te dio Pa Te dio Pa Ublì Ublì Si Ben Pas Ublì Agna Basta Le Fe Pa E Che Si Omo Roccon Sambra Come Un Sarvazzo E Bele No Lo Dai Lo Dai Ma Pugano 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 De Gesture Pa E Sia Pugano Pugano Attentiamo Giusto Vero Chilette Ah Fai Che Le Pusto Lui Arroba Te Uscite Salute Cesar Come Va Ti Come Come Va Ti Oh Mie Toto Zenda Uscite Bu Ma Ti Vorrei Che Se Voi Fio Vero Lo Dai Lampai D'altro Ensemble A Guaglian Oh Oh Mangia Lo De Mangia Lo De Lampas Lampas Vito Lampas Vito Lampas De Mangia Mangia Lampas Zah Vito Lampas Vito Mangia De Pugano Mangia L'e Pussiblo L'e Pussiblo Scusa Ma L'avevo Pussi Giunti L'apporto Me La Raccomanda Dove Firmé E Voila Bon Senti L'entraide Alla Presti La Signale Per Ton Anniversario Ah L'entraide M'oblì Ma Bien Chiar Bien Chiar Acuta Cerco Giusto Un post Che Fisse Chica Chica E Organizzare Eh Stendi Vabbè Post Te Telefono Più Me Che Organizzare Tutte Vabbè 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 Tanti Vabbè 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 Tantica A post Se Disastre Ma Gettolo Zoglia Di Micio Tacchiera Vabbè 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 Allora, se ti lo faccio letto, ti faccio fermare l'interno. Inche, 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 inche. Inche, ti faccio fermare l'interno. Inche, 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 inche. Inche, 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 inche. Ma se ti faccio i 50 euro, ti faccio i soldi? Eh, i 50 euro, basta un po', ma che prendi i soldi, basta un po'. Madonna. Eh, ti faccio i soldi. Ma se ti faccio i soldi, ti faccio i soldi, basta un po'. Eh, va bene. Posso passare l'interno, inche, 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 inche. Posso passare l'interno. Posso passare l'interno? Madonna. S'è l'interno. Come fai? Come fai? Ah, ah, ma non ho passato. S'è l'interno. E ti faccio i soldi. S'è? Eh, eh, eh. Eh, mi raccomando, le schiose euro da colcio. È tanto, se papi non è. Eh, ma buon. Sempre il mio rappelino. Eh, eh, eh. Quando mi ha... Le pli, s'è, lo folletto, eh. Perché le zacciche... Le zacciche che vanno vedere e poi... Tanto oramai le lancio, quindi... Le pli, s'è. E sempre sa. Tu dite paè. Bon. Oui, oui, sure. Au revoir, Madonna. Au revoir, buona giornata. Cumpilempis. Grazie a tutti. 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 la garanzia. a tutti. 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 a tutti.